Ciao a tutti, sono Fabrizio Rizzolo e sono qui in questo breve video di presentazione per proporvi una nuova categoria di Impunta di Ciabatte, questa bellissima rubrica che è stata coordinata, viene portata avanti da Mario Nosengo e Astigov.it con la provincia di Asti, e questa, diciamo, nuova categoria è quella dei cortometraggi. Non so se ce ne saranno altri dopo questo, ma Mario, a me e a Isabella, che è mia moglie, è venuto in mente di proporre un corto che io scrissi nel 2007 e dedicai a mio padre. È stato girato da Emiliano Cribari, un bravissimo regista fiorentino, e ci sono molti attori astigiani, e non solo, sono venuti molti attori da un po' tutta Italia per aiutarmi a realizzare questo progetto che mi stava molto molto a cuore nel periodo in cui mio papà non stava bene. Ora ci ha lasciato, ma è rimasto questo cortometraggio, che per noi è stato un piccolo miracolo, perché mettere insieme tutte queste persone, la troupe, e andare in giro nelle nostre zone, nelle nostre colline, tra Isola d'Asti, Montegrosso, fino a Moncalvo, appunto al teatro dove Mario è direttore artistico, ha richiesto un notevole impegno. Per questo ringrazio adesso, adesso, forse non l'ho fatto abbastanza, tutti coloro che ci hanno aiutati, dal Comune di Isola d'Asti, la protezione civile, lo stesso teatro, gli organizzatori, i vigili urbani, quelli che ci hanno permesso di realizzarlo. È un corto in realtà abbastanza lungo, perché dura più di 30 minuti, quindi preparatevi, ma credo che ne valga la pena. È sicuramente sentimentale, spero che vi dia delle belle emozioni, però anche qualche sorriso che non guasta mai. Beh, insomma, ho parlato abbastanza, non mi resta che augurarvi buona visione con Ho soltanto chiuso gli occhi.